Se non vuoi perdere nessuno dei video che carico quotidianamente ti consiglio di iscriverti immediatamente al canale e di attivare tutte le notifiche possibili ed immaginabili Se invece vuoi seguire le mie live streaming mi trovi sul canale Mixer, link in descrizione Il video di oggi è una compilation estratta proprio dalla mia ultima live su Mixer Perché tanto vi piace questa compilation che ho deciso comunque di portarla magari una volta a settimana La compilation comprende diverse partite fatte grosso modo o anzi per lo più in arcade Perché ci si diverte di più da un certo punto di vista A tal proposito se avete alcuni consigli su delle unità che potrei utilizzare nelle mie prossime live streaming Scrivetele nei commenti, sapete che con gli italiani utilizzo il P40, quello normale e quello premium In più il cacciacarri Ebbene se avete un'altra nazione che ha dei carri con prima di tutto era a livello di combattimento identici O perlomeno simili Scriveteli nei commenti, potrebbero diventare parte del mio fantastico trio delle meraviglie Se mi seguite ovviamente saprete di cosa sto parlando Adesso ragazzi andiamo a vedere la mitica compilation di Davy Via! Non pensate che siano tanti 450.000 perché finiscono subito Eh ma qua sono da solo contro due Aspetta Tra l'altro ora mentre stiamo parlando è uscita E live la stagione 5 di Apex Legends Eh Lo facciamo qua però la so Buona Serio? Ma com'è possibile? Che succede? Bravo il salame Mi metto a ridere se non ce la fai Cioè se è un salame allucinante Non ce l'avete fatta in tre Essendo una cosa un po' più Esclusiva Magari Vi dico cose che su Youtube arrivano dopo Quindi avete anche questo privilegio Oh sto qua dietro Quindi là Su mixer veramente Oh E basta Quanta pazienza che ci vuole Là ce ne sta uno No Se non ci fosse stato il cartello L'avrei preso in pieno Dai ma posso Posso perdere tempo con una persona del genere? Cioè io non lo so eh Credetemi Sta sempre l'asta Perché non ti muovi? Comunque Vabbè Proviamo a No comandante pilota Serio? Solo? 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 No ho finito quelli in LAN Mannaggia E' incredibile? Ce la faremo mai Con questi qua Santa pazienza Aiutami tu Beh a sto punto Spariamo a quello dietro Che è un cacciacarri Quello svedese No No Volevi eh Aspetta ce ne sta uno sulla destra What? Cioè non vuole E' immortale E' immortale E non muore Aiuto le bombe Per quanto riguarda il canale youtube Adesso il nuovo obiettivo come al solito E' ragionare di 500 e 500 Quindi i 9000 Iscritti saranno il prossimo passaggio Io Metterei la firma anche ora Se arrivassi a 9000 Entro la fine dell'estate Voi direte come mai così pessimista Perché comunque in estate L'utenza Cala particolarmente Su youtube Perché Si va a mare Per quanto si possa andare Comunque bisogna stare attenti In questa fase 2 E quindi diciamo C'è un calo Madonna ragazzi Da dietro Devo spegnere l'incendio Madonna cara Ti devasto proprio Ti apro in due Come una cozza Mi stai bruciando bene Eh Eh Santa pazienza Eh Non mi muore con il 128 Abbiate pazienza Ma c'è proprio qualcosa E' proprio una cosa Ducinogena Ti ho ucciso T62 Ottimo carro Però nel lato E in arcade Tac Comunque Dice Aiutoci a un leopard Dicevo Cosa molto importante Da fare Eh ma Capitano De Obvious Bravo Ti avevo visto Mannaggia Non ci provare mai più No Siamo in realistica Oh Mannaggia Tanta pazienza Oggi eh Volevo fare la cosa La L'arcade E siamo in realistica Già Vedevo Che era troppo lento Il carro Ho detto C'è qualcosa Che non quadra Io dico Che di qua Riesco a vedere qualcosa Se no mi arrabbio No Aspetta Vai vai L'avevo spento il motore Invece no Mi serve Prossimo obiettivo Avrei dovuto distruggerti Un'ora fa E abbi paziente Guarda dove mi sono messo Qua Sembra che sto controllando L'intera Oh se non mi vedono Da qua Non so che dire No Ho sbagliato Indietreggia No Ti distruggono Mi avete rotto il cazzo Ma ti pare possibile Dovevo aver fatto Già 4 kill Con quell'M4 E l'T126 Alla sinistra Sulla sinistra Dove Strancavolo è andato Ma sei serio? Non ti avevo visto E basta Dovevi essere morto Già da un'ora Vediamo un attimo Ui Sist 30 Distrutto Possiamo K Anche No Ragazzi Per la personalizzata Non sono Non sono Psicologicamente pronto Credetemi Tutti là dietro Stanno No Madonna Cara Pilota Ok Non si può muovere Comandante Artigliere Ok Mia Buona Artiglieria Copritemi le spalle Uh Oh Sono di Roma La bomba Assista Va bene Dobbiamo prendere il K Ma Come Come cavolo Prendo il K Che stanno Carri ovunque Perché sono Abbastanza Basso Come carro Magari Mi butto Nel K Aiuto Sali Veloce Incredibilmente Ci siamo Fermati Siamo dentro Il K Se c'è un carro Sotto Mi lancio Mi lancio Praticamente Sopra Pilota Artigliere Buono Tempo Di ricarica Eh Mi sa che si salva Aiuto Bomba Hanno sganciato la bomba Non ci voglio pensare Buono Distrutto Dai 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 ragazzi Che anche Eh ma guarda Siamo Soli Siamo soli Siamo soli Ok Lol No ragazzi La vinciamo Veramente Abbiamo vinta Abbiamo vinta Con tutti questi Giocatori In meno Guarda Guarda Vabbè Questa è stata Una partita Veramente Incredibile Da vincere Ah Stavolta Te lo sei preso Tu E ci vediamo Comunque sia Venerdì Sempre su mixer Alle ore 20 e 30 Con World of Warships Grazie a tutti Per l'attenzione Vi voglio bene Alla prossima